Ci teniamo tanto perché l'abbiamo vinta anche in passato e vogliamo riprovare a portarla a Roma. La Juve per di più ha dimostrato che quando le squadre avversarie si difendono prima o poi il gol lo fa, quindi dobbiamo giocarci la partita a viso aperto e cercare di fare anche gol e vincerla. Ma lo spero, ma lo spero perché l'apporto dei nostri tifosi vuol dire tanto, l'hanno dimostrato in passato anche in questa parte di campionato, quindi per noi avere più pubblico possibile meglio è insomma, quindi ci daranno una grossa mano. Ma sappiamo tutti che Miro è un grandissimo campione e quando gli capita l'occasione è sempre pericoloso e fa quasi sempre gol. Però anche Flocari che ha giocato nelle ultime partite è prima cosa che hanno dimostrato di essere all'altezza. Ma sinceramente spero di no, spero che sia una partita giocata a viso aperto, senza nessun condizionamento da parte dell'arbitro. Ovviamente è una speranza perché giocare queste partite è sempre bello, sperando che non ci siano condizionamenti vari. Ma intanto speriamo di andarci noi in finale, poi dall'altra parte se ci fosse la Roma o l'Inter non sarebbe un problema. Certo sarebbe un'emozione particolare per noi ma anche per tutta la città. Vedremo come andrà a finire. No, guarda, secondo me la squadra è attrezzata e abbiamo dimostrato anche di essere all'altezza anche con quelli che giocano meno. Poi se la dirigenza riuscirà a farci un regalo ben venga, però secondo me siamo bene così. Dobbiamo recuperare anche qualche infortunato, tipo adesso ultimamente Close, anche Ederson che è tanto tempo che è fuori. E anche loro ci possono dare una grossa mano. No, c'era questa possibilità perché dopo la partita d'andata con la Juve avevo avuto un piccolo problema. Non ero riuscito a lanarmi al meglio i due giorni successivi, quindi è stata una scelta perché non stavo bene fisicamente.